Ai bradi diciamo collettivi andiamo a fare un omaggio a un gruppo di anziani che si chiamavano gli Ucci perché tutti avevano un nome che poteva essere abbreviato con Uccio, quindi Antonio piuttosto che Leonardo piuttosto che altri e tra i pezzi che cantavano c'era questa bella tarantelluccia che si chiama o Ninella de Calimera o anche Zuppa Ninella Valentina abbiamo tre ospiti sul palco, tre bambini appassionati di pizzica Oddio, vabbè In riguardo ai Ucci possiamo fare Zuppa Ninella? E beh appunto, certo ma io quella avevo presentato Ok Vai Vai Accompagnateci con le mani Ah sì assolutamente Vai Uccio A seconda Allora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.